Fin dal primo momento in cui si va alla ricerca di un'occupazione, le donne e più degli uomini sono alla ricerca di un lavoro che non hanno, ma la durata di disoccupazione delle donne rispetto agli uomini si protrae più a lungo. Forse la causa è attribuita alle modalità di ricerca del lavoro, infatti se analizziamo la metodologia seguita notiamo che le donne ricorrono più degli uomini alla partecipazione a concorsi, ma in genere non intraprendono più di due iniziative contemporanee per trovare lavoro, mentre gli uomini ne provano diverse. La donna ha paura della responsabilità quando fin da piccola in ogni cosa le è stato insegnato che può fare affidamento su qualcun altro. Il bisogno di dipendenza, il bisogno che qualcuno si prenda cura di lei la blocca più di ogni altra cosa. La prima cosa che le donne debbono cercare di capire è fino a che punto la paura governa la loro vita. Proprio oggi abbiamo voluto dedicare il tema della legalità alle donne, cioè come le donne si sono impegnate nell'ambito dell'essere degli ottimi cittadini, esemplari cittadini e come si sono impegnate proprio nelle forze dell'ordine. Per cui abbiamo organizzato un incontro con la dottoressa Pluchino, che si è molto distinta a Palermo, al tempo delle stragi di Palermo, quelle mafiose, essendo anche dirigente funzionario della scientifica di Palermo nei tempi caldi della mafia. e poi abbiamo invitato anche un esponente donna della Polizia di Modica. Ed è per questo che alcuni alunni in questo momento, proprio nell'Aula Magna, sono protagonisti di questo incontro, ascoltando anche le loro esperienze. Quindi proprio la dottoressa Cappello della Polizia ci diceva che non è che da sempre nella Polizia ci sono state le donne. Si è dovuto lottare perché questo avvenisse. Adesso c'è parità di trattamento, sia a livello di ruoli, che a livello economico, che a livello di compiti da svolgere. Sono quindi delle conquiste che a noi sembrano scontate, e invece c'è voluta tanto impegno, c'è una storia dietro, ed è giusto che i nostri ragazzi la conoscono. Ecco perché abbiamo voluto creare questo connubio fra legalità e giornata della donna. Un augurio per tutte le donne, per le piccole donne che si trovano in questo istituto. L'augurio è quello di essere delle donne semplici, molto motivate, e per un ideale da perseguire. Per cui io auguro che ciascuna bambina, ciascuna ragazza, ciascuna donna abbia chiaro questo ideale da perseguire, non si faccia distrarre o abbagliare da altro. Ed è per questo che io parlo di semplicità. Semplicità e competenza fanno poi delle donne, delle cittadine esemplari. Paura di essere indipendenti, perché si rischia di rimanere sole, ma anche di essere dipendenti, perché si rischia di venire sopraffatte da qualcun altro. Paura di essere brave e capaci, perché così dovranno prendersi le loro responsabilità. Ma anche di essere incapaci, che sarebbe una conferma della disistima personale. Paura di piacere agli uomini, perché c'è il rischio di essere importunate o di essere considerate solo un corpo. Ma anche di non piacere, questo provoca un'angoscia indicibile. Perfine il proprio successo e la propria bravura possono mettere le donne a disagio. Ma intanto, secondo me, non è proprio da chiamare festa l'8 marzo. È più una commemorazione, un ricordo di quante donne hanno sofferto e sono morte in questo giorno, tantissimi anni fa. Ancora ad oggi la donna non è a pari con l'uomo, ma in tutto, in tutto nella vita, dal cercare il lavoro ad essere rispettata, anche tra colleghi e superiori. Ancora oggi la donna deve lottare per ottenere quella piccola luce, quel piccolo valore che poi la portano ad avere una dignità, forse a volte anche maggiore degli uomini. Sebbene dunque si rischia di cadere nello stereotipo, questo è il complesso ma meraviglioso universo delle donne che ancora oggi in pochi riescono a capire davvero fino in fondo.